Chi segue il nostro canale sicuramente conoscerà Ulefone, un brand che abbiamo imparato insomma a conoscere provando tutti i suoi smartphone rugged. Ebbene è un brand che però in oriente soprattutto sta andando molto forte non solo per i suoi smartphone indistruttibili ma anche per la sua linea diciamo così un po' più tradizionale e tutti i suoi smartphone sono accompagnati da un ottimo rapporto qualità prezzo. Ebbene Ulefone Note 17 Pro continua questa filosofia, è uno smartphone economico ovviamente che con i link in basso potete acquistare a meno di 280 euro ma che nonostante questo soprattutto spicca per il suo display curvo, bello luminoso, 120 Hz insomma hardware da medio gamma ma un po' più su, display veramente ottimo ma vediamo come va. Con il nuovo Note 17 Pro è come se Ulefone avesse fatto un piccolo passo in avanti rispetto alle generazioni precedenti in quanto a design e materiali. Tutta la parte frontale è protetta da un Gorilla Glass 5 che è curve, che ok non è diciamo il nuovo Gorilla Glass Victus però riesce a gestire piuttosto bene le impronte digitali. Lo spessore di 9 mm pesa 197 grammi il che di certo non lo rende tra i più comodi in commercio soprattutto per un utilizzo con una mano ma va detto che i pesi sono piuttosto ben bilanciati e poi la curvatura dello schema rende il grip un pochino più comodo. Posteriormente Ulefone Note 17 Pro ricorda molto le linee di Honor nei suoi smartphone numerici per esempio un Honor 90 mi viene in mente e è disponibile in due colorazioni. C'è quella nera che abbiamo ricevuto in prova che è molto più classica, io direi quasi anonima e poi c'è una colorazione arancione che a me piace molto di più. Ora nonostante si tratta di uno smartphone economico va detto che quando lo si impugna si ha la sensazione di utilizzare un dispositivo leggermente più costoso del suo prezzo insomma 280 euro è un prezzo veramente basso. Va detto poi che la back cover riesce a gestire bene le impronte digitali con la nera che abbiamo avuto in prova però raccoglie un pochino di polvere soprattutto lungo il camera bump ed è piuttosto scivolosa. Il posizionamento dei tasti è buono, il tasto d'accensione è facilmente raggiungibile e poi integra anche un blaster IR che lo rende un telecomando universale. Questa è sempre una cosa ben accetta secondo me soprattutto in questa fascia di prezzo. Ed è proprio per la fascia di prezzo che però questo smartphone non ha le certificazioni IP68 ci sta, è uno smartphone che costa poco, che resistente solo agli schizzi d'acqua però diciamo non può essere immerso e dovete fare un pochino di attenzione alla polvere. Ma di nuovo questa è una mancanza che avrei notato su uno smartphone da 400-500 euro. Qua parliamo di 280 euro e mi sembra un pochino troppo lamentarsi per la mancanza della certificazione. Ma adesso veniamo al display che secondo me è proprio il protagonista di questo dispositivo. Utilizza un pannello curvo AMOLED da 6,78 pollici in grado di raggiungere un refresh rate massimo di 120 Hz che ci ha stupiti proprio per la sua qualità data proprio il prezzo di vendita insomma del dispositivo tra l'altro. È un pannello che può essere impostato in maniera dinamica oppure manualmente a 60, 90 e 120 Hz. Per evitare tecnicismi gratuiti che per un dispositivo di questa fascia di prezzo secondo me non è che siano proprio importantissimi mi va detto che si tratta di un pannello che la stragrande maggioranza delle persone riterrà più che sufficiente per le proprie necessità. I colori sono ben vivaci, il contrasto è buono, i neri sono profondi e poi nelle impostazioni è possibile modificarne proprio la taratura veramente a fondo. Insomma considerando che stiamo parlando di un prodotto che costa meno di 280 euro le caratteristiche del pannello in questo Ulephone Note 17 Pro sono davvero notevoli. La densità di pixel per pollice è di 388 ppi però l'unica nota stonata secondo me di questo pannello sta nel sensore di luminosità per due motivi. Il primo è che quando si imposta la luminosità automatica tende a essere molto conservativo quindi abbassa tanto la luminosità e poi mi è capitato utilizzandolo così giornalmente che ad un certo punto la luminosità si abbassasse di colpo per poi rialzarsi. Questo è sicuramente un problema relativo al software che spero che alcune di Ulephone aggiornino anche se sappiamo che questi smartphone non è che siano proprio tra i più aggiornati del mercato. Andiamo alle fotocamere perché nonostante nell'aspetto possa sembrare uno smartphone dotato di tante fotocamere in realtà ne ha due anzi secondo me ne ha solo una perché una è una macro che veramente non serve a niente da 5 megapixel f2.2 Io queste macro le odio però la scelta che ha fatto il brand da un lato secondo me è intelligente perché il che non ha inserito l'ultrawide voi direte sì manca l'ultrawide l'ultrawide è una fotocamera divertente è vero però invece di utilizzare due fotocamere cioè una principale e una ultrawide con un sensore di bassa qualità il brand ha deciso di inserirne solo una da 108 megapixel quindi un'unica fotocamera che però come vedremo alla fine in base al prezzo si comporta molto bene il sensore come dicevo è 108 megapixel f1.89 purtroppo non è stabilizzato otticamente però utilizza la tecnologia smart ISO e lavora con il pixel dimming 9 a 1 ora che non sia un camera phone è una cosa chiara perché stiamo comunque parlando di un dispositivo che costa 280 euro però va detto che paragonando la qualità fotografica del suo sensore al prezzo di vendita devo dire che effettivamente mi ha quasi stupito questo dispositivo perché in condizioni di monominosità le immagini sono buone non estremamente luminose è vero però i colori sono naturali il contrasto è buono c'è anche una buona gamma dinamica vedete nei sample che vi sto facendo vedere vedete anche delle foto zoomate non ha lo zoom ottico quello che vedete è uno zoom digitale che però grazie al sensore da 108 megapixel riesce comunque a garantire delle immagini di buona qualità in condizioni di bassa luminosità ovviamente le cose cambiano un pochino in effetti la modalità notturna di cui dispone questo smartphone riesce ad elaborare le immagini piuttosto bene anche se in alcune condizioni estreme come notate insomma non è che siamo a livelli altissimi però va detto che per un prodotto da 280 euro fa anche troppo secondo me discreti video che possono essere registrati alla risoluzione massima 2k a 30 frame per secondo diciamo non è uno smartphone con cui io andrei a registrare i miei video in vacanza però ripeto costa poco la frontale è una 32 megapixel f2 e 5 è una fotocamera che è nella media diciamo nella fascia di prezzo riesce a registrare video fino a 1080p a 30 frame per secondo ed è una buona fotocamera anteriore anche se diciamo che non è la caratteristica per cui spicca questo dispositivo un iPhone Note 17 Pro è animato da un Mediatek Helio G99 un processore octa-core che ormai conosciamo benissimo è prodotto a 6 nanometri e che abbiamo già testato in smartphone come il Realme 10 è proprio come con il Realme 10 neanche questo dispositivo ha il modem 5G questo è un limite proprio di questa architettura di Mediatek è un'architettura di fascia medio-bassa parliamoci chiaro che però è colivata da 12 GB di memoria RAM che possono essere aumentati a 24 GB con la memoria virtuale e 256 GB di spazio interno non sono memorie velocissime nella testuale trovate tutta la scheda tecnica con i dettagli delle memorie però devo dire che è una configurazione che per chi va ad acquistare uno smartphone che costa 280 euro fa bene quello che promette di fare insomma nell'utilizzo quotidiano non vi dico che sono assenti micro lag perché soprattutto nella gestione del multitasking potrebbe capitare di trovare qualche piccolo rallentamento però in linea di massima secondo me è uno smartphone più che adatto all'utilizzo quotidiano delle persone normali ed è uno smartphone che alla fine permette anche di giocare con giochi anche piuttosto complessi tipo che ne so Call of Duty certo bisogna magari rinunciare a risoluzioni in HD bisogna magari rinunciare a un pochino di frame rate però il tutto è piacevole da portare avanti si può giocare senza alcun problema il processore ovviamente non fa punteggi esagerati nei nostri benchmark ma guardate questi due grafici noterete come anche se non è un processore super potente è un processore molto molto stabile che garantisce in tutta sostanza sempre le stesse prestazioni questo vuol dire che non ha problemi di temperatura quindi il sistema per gestire le temperature non deve abbassare le velocità di clock di tutti i core del processore e quindi diciamo che è un processore in grado di garantire prestazioni medio basse ma di garantirle in modo costante quindi secondo me hanno fatto un buon lavoro buona ricezione del segnale cellulare buono l'audio in capsula buona la connessione alla rete wifi che si connette fino a 5 GHz e buono anche il sensore per le impronte digitali che sotto lo schermo è ben posizionato e funziona piuttosto bene ciò che mi ha fatto impazzire è il feedback haptico anzi il motorino per la vibrazione che insomma dà un feeling si vede che è piuttosto economico da questo punto di vista infatti io l'ho disattivato subito perché proprio non mi è piaciuto e qualora dovesse acquistare anche voi questo smartphone il mio consiglio è quello di disattivarlo e anche questo smartphone è animato da Android 13 si arriva con Android 13 diciamo che non è un brand che aggiorna tantissimi propri dispositivi quindi questo è un compromesso che bisogna tenere un pochino a mente quando lo si va ad acquistare e utilizza un'interfaccia grafica molto simile alla Android Experience anzi in sostanza sono state personalizzate veramente poche cose come le icone, un pochino il menu delle impostazioni ma per il resto non ha assolutamente bloatware questo è un punto a favore addirittura anche Facebook e le applicazioni che in genere troviamo sugli altri smartphone non sono installate è un sistema operativo che alla fine dà proprio l'esperienza di Google è un sistema operativo che però nelle piccole personalizzazioni che ha non è tradotto ancora perfettamente l'italiano certe volte si trovano delle parole in francese certe volte delle parole in inglese ma che ci vuole a tradurre in italiano? cari ragazzi di Ulefon se volete ve lo traduco io però tutto sommato è un sistema operativo che alla fine è molto leggero è meno male perché diciamo che in linea di massima è piuttosto fluido certo c'è qualche microlaggio come vi dicevo prima però diciamo che nell'utilizzo comune sempre per una persona che va ad acquistare uno smartphone da 280 euro è più che sufficiente batteria da 5.030 mAh che gli riesce a garantire una buona autonomia è diciamo un'autonomia al pari di quella del Realme 10 un prodotto che alla fine con un utilizzo comune vi porta anche avanti un giorno e mezzo con un'unica carica non è niente male sappiamo che questa architettura di Mediatek per quanto non sia super potente non è comunque energivale riesce bene a gestire le temperature e ovviamente i consumi e probabilmente consuma così poco anche perché improvvisamente lo schermo insomma si abbassa di luminosità o comunque la luminosità automatica è molto conservativa buona notizia insomma buona notizia ricarica veloce a 33 watt ed è sempre comunque piacevole vedere queste ricariche che alla fine impiegano meno tempo per riempire la batteria di energia anche in smartphone che effettivamente sono molto economici il prezzo di vendita dell'Ulephone Note 17 Pro è di 319 euro ma in basso trovate un link grazie al quale potete acquistarlo su Amazon con uno sconto di 40 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto che fa scendere la cifra a 279 euro ed è una cifra niente male per un prodotto che in fin dei conti potrebbe risultare più adatto per la stragrande maggioranza delle persone ok non stiamo parlando di un dispositivo che si contraddistingue per le prestazioni o per la fotocamera nonostante abbia un sensore da 108 megapixel è l'unico sensore in realtà che si può utilizzare con le foto però per il suo prezzo di vendita i compromessi secondo me sono più che giusti poi diciamolo ha uno dei migliori display in circolazione per la sua fascia di prezzo ora non so se a voi la mancanza dell'ultrawide può pesare secondo me la scelta che ha fatto il brand ripeto è piuttosto furba ha detto io metto un sensore che è bello risoluto piuttosto che metterne due che poi alla fine fanno schifo tutte e due peccato per il software perché va bene l'Android Experience io sinceramente apprezzo quando questi produttori di smartphone economici dicono visto che non abbiamo budget da destinare alla personalizzazione del sistema operativo non lo personalizziamo ed è un Android Experience e quindi ci leviamo in mezzo ai paccheri come si dice a Napoli però quantomeno qualche attenzione nella traduzione nelle altre lingue poteva insomma sarebbe stata buona detto questo ragazzi questo è quanto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella io sono Dario Calendo e ci vediamo al prossimo video su Giz Grazie a tutti